Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici, oggi siamo in esterna e siamo a Villa Pompeiana al Parco Ittico Paraviso. Il Parco Ittico è costruito su un fiume praticamente, un percorso d'acqua, con vasche divise da delle grate e con tanti tipi di pesci diversi. Vi facciamo vedere, vieni Sara, facciamo vedere intanto i pesci, gli storioni, questi sono gli storioni, sono molto grossi, più in là c'erano anche gli storioni di altro tipo, questi sono i siberiani, ma una delle caratteristiche del parco sono queste scale che ci permettono di scendere e di andare a vedere una specie di acquario dal vivo, una vetrata. Solo che guardate là, tutti i pesci sono lì e si vedono da uno schermino piccolo. Esatto, da un vetro. Stai lontano dagli angoli perché negli angoli ci sono dei ragni. Ok, e qui possiamo osservare tranquillamente tutti i pesci che stanno molto vicino per farsi notare, salutiamo, salutiamo i pesci, non si bussa sul vetro ovviamente, ed è bellissimo perché poi vedremo magari anche nelle vasche più avanti, se c'è qualcosa di particolare potete appunto ammirarli da vicino, ma sono in un fiume, non in un acquario, giusto? Mhm. E siamo appena entrati. Come ho visto questo bianco? Qual è? Questo? Questo sì. Diamo un nome ad ogni pesce, dai. Allora, forza. Lucio. Ma Lucio è il tipo di un pesce. Va bene, lo chiamo Lucio. Anna, Carlo, va bene. Nora e... Va bene, su Nora ce ne andiamo, risaliamo dall'altra parte e a riprendiamo il giro. Vedete? Qui il vetro è qua sotto, in pratica. Ma noi riprendiamo, il giro è lungo, giusto Sara? Sì. E iscrivetevi al canale, commentate, e come sempre, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!